Filmo per uso interno, non verrai ripreso, ci tenevo a dirtelo. Dimi tutto. Ho già esperienza da 20 anni, come puoi vedere, quindi credo che posso già partire domani. Esperienza dove? In che settore? Il mondo del peccicino, io sono qua un tempo, quindi in realtà non c'è bisogno neanche di una prova. Quali lavorativi, qual è il giorno dove magari posso stare a casa. Allora, guarda, forse dovremmo un pochino approfondire un pochino più la tua esperienza e capire cosa sai fare. Capire anche i soldi che si prendono, scusami. Oddio, scusami, mi sembra un po' prematuro parlare di stipendio prima di sapere che cosa fai e qual è la tua esperienza. Questo tipo di nastro, così, fammi capire, lo conosci che cos'è, che colla è, che supporto è, dove viene utilizzato, quale potrebbe essere un consiglio per il cliente. Com'è l'altro, c'è che domande mi fai, c'è un attimo di cose più serie, serie. Guarda, scusami, io sono qua per lavorare, ho poco tempo a disposizione, vorrei non perdere tempo, non ho altro da aggiungere. Perché, scusami? Guarda, a me questo tipo di approccio non piace, per me l'approccio è completamente diverso. Molto piacere, grazie, ci vediamo presto.